16 anni, debutto in prima squadra e il Presidente Sebastiani poco fa ai nostri microfoni ha detto anche con grande personalità. È un grande piacere per me perché ho raggiunto un bel traguardo e sono orgoglioso di me stesso e basta. Che cosa hai pensato quando Auteri ha detto tocca a te? Mi sono un po' emozionato, però ho detto ce la devo mettere tutta, è una grande opportunità e niente. 16 anni, l'hai compiuti o lo devi compi? L'hai compiuti e hai giocato allo stadio Adriatico con il Pescara che credo sia la tua squadra del cuore. Sì, ovviamente.